Ciao, io mi chiamo Dennis Quagliata, abito in Germania, a Stoccar, sono adesso qua nella clinica di Dr. Jettkin Paya per la seconda volta, perché il risultato nella prima volta è stato veramente eccezionale. Mi sento bene, certamente sono un pochettino agitato adesso per l'operazione. La clinica è nuova, pulita, veramente positiva e anche come organizzazione molto positiva. Ci darei 5 stelle su 5. Grazie a tutti. Ciao, sono Dennis Quagliata. Adesso è il secondo giorno o due giorni dopo l'operazione. Sono di nuovo qua nella clinica di Dr. Jettkin Paya. Adesso mi hanno lavato le capelli, mi sento adesso più libero, tutta la trasplantazione non ha fatto male, mi sento veramente bene. Grazie. 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 Grazie.